Una domanda che pongono molto spesso i pazienti all'interno dello studio è ogni quanto tempo è necessario fare la pulizia dei denti dal dentista, cioè quella che viene definita in maniera più corretta l'igiene dentale professionale. Prima di rispondervi in maniera molto breve in questo video vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, lasciare like e poi anche di attivare la notifica della campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video che pubblico. Bene, quando fare la pulizia dei denti? Ogni quanto. In realtà le linee guida del ministero suggeriscono che l'igiene orale professionale va eseguita appunto ogni sei mesi, quindi due volte all'anno è buona norma recarsi dal dentista. Però ci sono chiaramente degli individui che hanno una predisposizione o che soffrono di piorrea che in maniera più corretta si chiama appunto malattia parodontale. In quegli individui che rischiano la perdita dei denti a seguito di questa patologia i controlli e le procedure di igiene professionale devono essere molto più ravvicinati e quindi chiaramente si suggerisce di farla ogni tre mesi.